dal vangelo secondo luca ed ecco in quello stesso giorno il primo della settimana due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome emmaus distante circa 11 chilometri da gerusalemme e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto mentre conversavano e discutevano insieme gesù in persona si avvicinò e camminava con loro ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo ed egli disse loro che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino si fermarono col volto triste uno di loro di nome cleopa gli rispose solo tu sei forestiero a gerusalemme non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni domando loro che cosa gli risposero ciò che riguarda gesù in nazareno che fu profeta potente in opere in parole davanti a dio e tutto il popolo come i capi dei sacerdoti le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crucifisso noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato israele con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti si sono recati al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto disse loro stolti e lenti di cuore a credere in ciò che hanno detto i profeti non bisognava che il cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e cominciando da mosè da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui quando furono vicini al villaggio dove erano diretti egli fece come se dovesse andare più lontano ma essi insistettero resta con noi perché si fa sera il giorno ormai al tramonto egli entrò per rimanere con loro quando fu tavolo con loro prese il pane recitò la benedizione lo spezzò lo diede loro allora si aprirono loro gli occhi lo riconobbero e gli sparì dalla loro vista ed essi dissero null'altro non radeva forse in noi il nostro cuore mentre gli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture partirono senza indugio e fece un ritorno a gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano davvero il signore risorto ed apparso simone ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane sia lodato gesù cristo sempre sia lodato eccoci giunte domenica 26 aprile 2020 abbiamo ascoltato il vangelo di oggi tratto dal capitolo ventiquattresimo di san luca il famoso capitolo dove si narra la vicenda di discepoli di emmaus un capitolo che si applica molto bene al cammino che stiamo facendo delle piccole osteri paratrici con don giuseppe tomaselli perché ci fa vedere la centralità dell'eucaristia dunque innanzitutto vediamo che persino la spiegazione di gesù la spiegazione fatta da gesù cominciando da mosè da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui persino le spiegazioni di gesù circa se stesso circa la scrittura circa la sua passione non è sufficiente a far loro capire che era gesù non è sufficiente a permettere loro di aprire gli occhi vedete dopo dice quando fu tavola con loro prese il pane recito la benedizione lo spezzolo diede loro allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero questo avviene dopo il momento della memoria dell'eucaristia non quando Gesù spiega la scrittura la lettura della parola di dio la comprensione della parola di dio il senso profondo della parola di dio avviene solo all'interno dell'eucaristia io riconosco il volto di dio presente nella scrittura solo grazie all'eucaristia è l'eucaristia che permette e consente di comprendere il senso profondo della sacra scrittura cosa che infatti l'utero non ha potuto fare perché la sola scrittura non basta non è sufficiente se io scorporo la sacra scrittura dall'eucaristia io perdo il senso profondo vero reale della scrittura è come se diventasse una lettera morta non ha più quella vista necessaria perché io possa riconoscere il volto di dio e lo dice la scrittura stessa voi vedete lui spiega Gesù spiega stolti e lenti di cuore quindi spiega cominciando da Mosè e dei profeti spiego loro in tutte le scritture cioè che si riferiva a lui ma nulla si sentono rimproverare si sentono sgridare niente non lo riconoscono sarà solamente dopo allora si aprirono loro gli occhi lo riconobbero ma egli sparì dalla loro vista e loro lo dicono poi non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre gli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture sì ardeva il cuore ma non lo potevano riconoscere il cuore che arde non è sufficiente a riconoscere il volto di dio il cuore che batte il cuore che pulsa il sentimento di dio non è dio non è il volto di dio l'ardore per dio non è in grado di riconoscere il volto di dio è come un cieco un cieco che arde d'amore ma non vede l'amata perché io possa riconoscere l'amato del mio cuore perché io possa riconoscere il volto di dio e dare un verso e una direzione all'ardore del mio cuore è necessaria l'eucarestia altrimenti sento un cuore che arde ma nulla più bene c'è un altro punto importante perché anche questo è degno di comprensione ma allora si aprirono loro gli occhi lo riconombero ma egli sparì dalla loro vista ho sentito alcune interpretazioni alcune ermeneutiche di questo testo che che fanno rabbrivedire che fanno gelare il sangue cioè che Gesù sparisce dalla loro vista Gesù sparisce dalla loro vista in funzione di che cosa? in funzione del fatto che lui compie questo gesto eucaristico e quindi a questo punto sparisce perché così non accada che lui diventi un idolo capite? in questa maniera lui non diventa un idolo quindi lui se ne va per fare in modo che loro non si mettano lì con questa eucaristia ad adorarla a fare a chissà quale devozione chissà quale atto d'amore quindi Gesù sparisce Gesù sparisce perché non non deve essere quello il centro ma che cosa deve essere il centro? ecco qui la follia che cosa deve essere il centro? il centro deve essere la fraternità l'essere comunità allora la fraternità e la comunità senza eucaristia sono un SPA sono semplicemente un SPA non sono niente fraternità e comunità senza eucaristia non sono nessuno Gesù se ne va dalla loro vista per un'altra ragione perché ormai questa vista era sufficiente era capace di poter vedere Gesù nell'eucaristia nel momento in cui avviene la presenza eucaristica non è più necessaria questa presenza di Gesù sotto altra forma questa forma possiamo dire trasfigurata no? è il Gesù trasfigurato risorto non è più necessaria noi avendo l'eucaristia non abbiamo più bisogno di vedere fisicamente la presenza di Gesù quindi Gesù non se ne va perché è la priorità e la comunità una follia perché è la priorità e la fraternità avete mai visto una fraternità una comunità cristiana che non sia tale in funzione dell'eucaristia non esiste non esiste fraternità di chi? di chi? in nome di chi? il nostro essere comunità è in nome in funzione e grazie a Gesù l'eucaristia è il cuore della chiesa non ce lo dimentichiamo mai togliamo l'eucaristia finisce la chiesa è come un corpo a cui strappo il cuore è morto basta non c'è più ripeto quello che ho detto ieri è un'eresia dire che adorare l'eucaristia vuol dire essere idolatri è un'eresia trasformare l'eucaristia in un idolo perché un idolo è morto un idolo non esiste non è niente l'eucaristia è il corpo dato il sangue sparso di Gesù Cristo figlio di Dio secondo ipostasi della Trinità ecco noi di questo dobbiamo essere molto coscienti dobbiamo essere assolutamente molto consapevoli perché se no altrimenti voi capite che capite che si perde proprio la bussola si perde l'orientamento corretto da tenere e quindi nessun atto nessun atto di amore di adorazione di venerazione di devozione che noi compiamo verso Gesù diceva Giovanni Paolo II è sufficiente o eccessivo è sempre insufficiente perché lo stiamo facendo a Dio l'essere umano non potrà mai compiere un atto di adorazione sufficiente o eccessivo verso Dio è impossibile perché noi siamo finiti Dio infinito cioè proprio questa è è l'ABC è l'ABC della logica chi afferma queste cose cioè chi afferma che Gesù se ne va perché non vuole diventare un idolo perché non si vuole trasformare l'eucaristia in un idolo perché è il centro la comunità ecco semplicemente luterano non è cattolico è un'altra cosa è un'altra realtà certamente non sta coi santi non sta con San Giovanni della Croce non sta con Santa Teresa di Gesù non sta con San Giovanni Bosco non sta con Madre Teresa di Calcutta non sta con nessun santo voi non troverete mai un santo che non sia eucaristico non esiste chi più chi meno cioè meno nel senso che magari sottolinea un po' meno questo aspetto voi troverete sempre in ogni santo una sottolineatura dell'eucaristia da San Francesco che è il santo dei poveri della povertà per eccellenza andate a leggere che pagine incredibili ci sono scritte su di lui verso l'eucaristia così come qualsiasi altro santo San Camillo dell'Ellis Madre Teresa di Calcutta non ne parliamo non esiste non esiste semplicemente perché è tutto l'eucaristia è tutto per cui ecco allora si aprirono gli occhi lo riconobbero ma sparì dalla loro vista grazie l'eucaristia riescono a fare una rilettura del passato corretta non ardeva forse il nostro cuore mentre gli conversava con lui lungo la via quando ci spiegava le scritture ecco vedete adesso riescono a tornare indietro perché l'eucaristia purifica la memoria la educa la riabilita riescono a tornare indietro con la memoria a comprendere ciò che era accaduto che in quel momento non comprendevano partirono senza indugio e fece il ritorno a Gerusalemme attenti quindi il coraggio la speranza la forza l'audacia viene grazie all'eucaristia non viene grazie alla lettura della scrittura è la lettura della scrittura collocata dentro il gesto eucaristico che permette il partire senza indugio e fece il ritorno a Gerusalemme dove vanno? vanno verso dove? vanno verso il luogo della persecuzione vanno verso il luogo della morte dove è morto Gesù tornano indietro capite? adesso sono in grado di affrontare la paura della morte sono in grado di affrontare la paura lo spettro del fallimento dell'apparente fallimento di Gesù no? che loro pensavano fosse un profeta ma Gesù non era un profeta Gesù era il figlio di Dio dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano vedete? ecco la comunità ecco la fraternità è possibile riunirsi alla comunità è possibile fare comunità è possibile trovare comunità solo dopo aver incontrato l'Eucaristia trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone ecco ecco l'atto supremo di fede la fede è possibile solo dopo l'incontro con Gesù Eucaristico ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane capite non nella spiegazione della scrittura è preciso il testo eh egli narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane precisissimo questo testo solamente un malintenzionato lo può deturpare perché più chiaro di così si muore anche un bambino dell'asilo lo capisce due volte torna a questa questione il riconoscere Gesù avviene solo nello spezzare il pane nel gesto eucaristico gesto eucaristico che nel momento in cui viene compiuto ti dice sono più che sufficiente perché tu mi possa vedere se hai fede non serve che mi vedi con gli occhi del corpo perché adesso sei in grado di vedermi con gli occhi della fede quindi il Gesù sensibile sparisce non lo vedono più con gli occhi del corpo perché ormai lo hanno riconosciuto con gli occhi della fede e quindi sono in grado adesso che hanno gli occhi aperti dalla fede di fare comunità con gli undici a questo punto siamo autorizzati a tornare al nostro testo di Don Giuseppe Tomaselli piccoli osteri paratrici e ad andare avanti nella bellissima lettura siamo arrivati a questo capitoletto che si intitola trattenimento eucaristico che è importantissimo dice Gesù ti ho accennato il trattenimento con me dopo la comunione l'argomento è assai importante e vorrei suggerirti un regolamento doveroso e utile per alimentare l'amore eucaristico apprezzare molto e non sprecare per nulla il tempo che segue la comunione appena ti sei comunicata offrimi prima di tutti i tuoi peccati e tutte le miserie le tue miserie allora sta trattando il tema post comunione dopo che abbiamo ricevuto la comunione Gesù dice ecco questo è un argomento molto importante è un tema molto importante e ti voglio insegnare un regolamento doveroso e utile per alimentare l'amore eucaristico cioè quando noi diciamo faccio fatica ad avere l'amore per Gesù eucaristia non sento tanto questo amore eucaristico ecco il Signore adesso ci insegna un modo per crescere apprezzare molto e non sprecare per nulla il tempo che segue la comunione il tempo che segue la comunione è un tempo molto importante è un tempo che che dovrebbe in tutti i modi contraddistinguere il nostro essere cristiani no? e in un certo senso hanno fatto anche i discepoli di Emmaus questo ringraziamento dopo la comunione perché? ma perché capite quel discorrere tra loro facendo memoria del cuore che ardeva era un ringraziamento dopo la comunione era un modo di ringraziare il Signore di quanto in quel momento loro avevano ricevuto è solo in quel modo attraverso questo grande ringraziamento che che loro hanno manifestato tutto lo stupore che avevano nel cuore e anche noi dobbiamo manifestare questo stupore che abbiamo nel cuore dopo aver ricevuto l'Eucaristia e allora Gesù ce l'insegna appena ti sei comunicata offrimi prima di tutti i tuoi peccati e tutte le tue miserie è incredibile questo è esattamente il contrario di quello che noi facciamo faremmo e penseremmo appena ti sei comunicata offrimi prima di tutti i tuoi peccati e tutte le tue miserie non il tuo amore dimmi il tuo amore fai le preghiere ecco una cosa che dobbiamo imparare a fare guardate che proprio non va tanto bene appena fatta la comunione aprire il libro delle preghiere recitare le preghiere no no perché un amore non si legge l'amore non si legge l'amore si dice l'amore si narra l'amore si lascia uscire l'amore l'amore non può essere letto in un libro non posso prendere le parole d'amore da un altro non in prima battuta capite quindi smettiamola chi ha questa abitudine deve proprio smettere questa cosa qui perché è proprio brutta fate la comunione torna al posto si mette in ginocchio apre il libro delle preghiere e inizia delle preghiere no non è questo il tempo le dirai dopo ma non lì hai appena ricevuto il Signore appena ti sei comunicata offrimi prima di tutti i tuoi peccati tutte le tue miserie quello è il momento nel quale noi dobbiamo offrire a Gesù eucaristia tutto ciò che ci separa da Lui vedete in questa maniera Gesù ci insegna come si ama amare vuol dire innanzitutto mostrarsi per quello che si è questo è l'atto supremo dell'amore amare vuol dire innanzitutto mostrarsi nella parte più fragile più debole più fallimentare più offensiva che portiamo nel cuore questo vuol dire amare Gesù ci vuole insegnare che Lui ama così noi invece amiamo esattamente al contrario noi amiamo e infatti non è amore noi amiamo mostrando la parte più forte la parte più bella la parte più vera la parte più coraggiosa la parte più pulita di noi stessi all'altro e nascondendo mistificando tutto ciò che di sporco di brutto di insensato fragile debole portiamo dentro nel cuore a colui o a colè che noi amiamo tutto ciò che non va lo mostriamo per ultimo e tendenzialmente cerchiamo di non mostrarlo non è raro il caso di qualche d'uno che scopre qualcosa del marito o della moglie due anni dopo che si è sposato se non ancora di più è un inganno questo è un inganno mostrare solo quella parte e mostrarla per prima è uno specchio per le allodole di fatto è uno specchio per le allodole è un grande atto di ipocrisia non è amare non è amare non si ama così si ama innanzitutto facendo vedere la propria miseria facendo vedere ciò che non va di noi ciò che noi vorremmo nascondere ciò che è più occulto perché se uno poi ama quello amerà tutto il resto sono un po' come quelli che dicono no ma io sto con questa persona per esempio non so è lontana da Dio non va in chiesa ma grazie a me ci andrà no 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 guardate una persona o l'ami così com'è o non l'ami poi se cambierà questo è un altro discorso se cambierà ma o va bene così com'è adesso o niente perché non possiamo amare nel modo più futuribile possibile amare non è lottativo della vita non è questo amare non è un'eventualità una possibilità che forse accadrà no amare è l'indicativo assoluto sono chiamato ad amare ora adesso così com'è capite che se io mi nascondo se io mi nego nella parte più triste di me e ognuno di noi ha la parte più triste di sé io di fatto impedisco il sorgere dell'amore perché entro nella sfera della menzogna e dove c'è menzogno non ci sarà mai amore mai questo proprio è un assoluto quindi Gesù ti dice offrimi prima di tutti i tuoi peccati e le tue miserie partiamo da qui fa memoria di tutto ciò che ti separa da me fa memoria di tutti i tuoi tradimenti di tutto ciò che è un no a me e offrilo dallo a me non tenertelo nel cuore vedete perché è importante anche tra esseri umani questo dirsi nella parte più oscura perché nel momento in cui io dico la mia parte oscura io faccio entrare la luce io apro le finestre il lato oscuro cessa di essere tale in funzione della condivisione in funzione della mostrazione tanto io mostro tanto io risolvo l'oscurità della mia esistenza ah tra l'altro vi dico che ecco ieri ho fatto un errore quando vi ho consigliato il testo Iota Unum è di Romano Amerio ecco ho fatto questo errore nel dire il nome mi sono confuso è Romano Amerio e questo testo vi aiuterà a capire molto bene anche anche queste dinamiche perché è complesso come vi ho detto ma letto bene aiuta a fare ordine anche in queste cose quindi impariamo la bellezza dell'essere noi stessi soprattutto con chi vogliamo amare con chi sappiamo chi ci ama chi ci ama non resterà mai scandalizzato per quello che noi siamo se resta scandalizzato perché non ci ama è perché ama una un'immagine tridimensionale di noi ma che non esiste non c'è ama un algoritmo non ama una persona ama una formula ma non una persona dopo dice Gesù potreste recitare questa preghiera quindi dopo che tu hai offerto i tuoi peccati le tue miserie al Signore appena fatta la comunione potresti recitare questa preghiera bellissima che vi leggo e che trovate nel pdf che ho pubblicato sul sito veritate mi incaritate che i ragazzi hanno pubblicato quando hanno quando abbiamo parlato proprio di quel pdf qualche giorno fa sul ringraziamento le preghiere di ringraziamento e preparazione alla comunione per sacerdoti e per laici ecco trovate anche questo testo Gesù mio salvatore redentore ti ringrazio che sei venuto nel mio cuore poiché non sono capace di adorarti degnamente ti offro l'adorazione della madre tua Maria di tutta la corte celeste bellissima angelo mio custode ringrazia ad adora tu Gesù per me intendo Gesù mio con questa comunione adorarti amarti e benedirti per coloro che non ti adorano non ti amano e non ti benedicono intendo riparare tutti i peccati che si sono fatti e si faranno distruggi col tuo divin sangue tutte le colpe dell'umanità e in particolar modo i sacrilegi le bestemme i delitti e gli scandali nel tuo cuore divino nel cuore immacolato e dolorato di Maria metto tutte le anime più bisognose della divina misericordia ti raccomando i sacerdoti moribondi gli ammalati le anime del purgatorio i miei nemici e i bisogni della santa chiesa amen vedete è una preghiera che tiene dentro tutto no raccoglie proprio tutto ed è una preghiera che va bene anche in questo tempo del coronavirus perché vedete ti raccomando i sacerdoti i moribondi gli ammalati una preghiera che va bene per tutti i tempi della chiesa tutti i tempi della società e che tiene dentro tutte le categorie di persone è una preghiera bellissima poi dice Gesù terminata questa preghiera sta in silenzio e mettiti in comunicazione con me mentalmente vedete molto semplice nel momento post comunione offerte dei tuoi peccati delle tue miserie questa breve preghiera e poi in silenzio e mettiti in comunione con me mentalmente sul testo sul testo che io vi ho fatto del pdf voi trovate anche tante altre bellissime preghiere si possono dire uno può dire questa più altre una due quelle che gli piacciono e poi sta in silenzio e si mette in comunione con Gesù questo è un momento importante perché la comunione si fa attraverso il silenzio la piccola ostia riparatrice come ogni ostia deve imparare a vivere nel silenzio questa offerta continua a Dio prosegue pensa che nel tuo cuore c'è il figlio di Dio il redentore dell'umanità il padrone dell'universo l'amore comunicativo donandomi all'anima tua voglio comunicarti qualche cosa di me conviene perciò attendere col massimo silenzio amoroso il mio intimo lavorio nel tuo cuore se ben disposto ti faccio sentire le mie celestiali carezze d'amore che si avvertono con l'intima gioia e la profonda pace inoltre lascio nel tuo cuore le orme delle mie vestigie divine ebbene che dopo ogni comunione prima di uscire dal tempio tu prenda qualche proponimento ad esempio evitare lungo il giorno una data mancanza ovvero compiere un particolare atto di virtù capito? bellissimo no? l'amore comunicativo oh cielo oh cielo tema di maturità di quest'anno ecco io darei agli studenti questo tema di maturità titolo l'amore è comunicativo punto auguri buon tema vediamo cosa sai scrivere su queste tre parole su queste tre parole potremmo scrivere un poema un poema l'amore è comunicativo un poema voi mettete adesso abbiamo tanto tempo oggi è domenica no? ne abbiamo di tempo non dobbiamo lavorare non dobbiamo uscire non dovremmo uscire diciamo l'amore è comunicativo mettetevi lì prendete carta e penna se vi piace ancora carta e penna oppure prendete il vostro computer mettetevi in silenzio davanti al signore tema l'amore è comunicativo buon svolgimento scrivete un tema con questo titolo io temo che questo tema getti nel panico non poche persone come alcuni miei compagni di classe che alle superiori quando il professore dava i temi ne dava tre capite che abbondanza uno dice ma li faccio tutte e tre sono talmente belli che li facciamo tutte e tre no? per qualcuno tre non erano sufficienti cioè per qualcuno tre erano troppi e li voleva fare tutte e tre per qualcun altro invece tre e diceva e poi no? e poi basta il tema è uno un tema cosa vuol dire tre, quattro, cinque, sei perché non quattro perché non cinque perché non sei allora è infinito no? vabbè comunque sono stili sono gusti va bene tema l'amore comunicativo e fai sto tema scrivi scrivi il cuore la tastiera devi bruciare devi tirare sui tasti mentre scrivi la penna la devi fondere tanto scrivi velocemente ma ripeto alcuni secondo me vanno in panico perché cominciano a vedere questa questa è è copula che è un problema come l'amore è comunicativo in che senso quando dove con chi panico cosa vuol dire l'amore comunicativo vuol dire tutto cioè capite se l'amore non è comunicativo non è amore perché l'amore non può essere riversato su se stesso l'amore non può essere una realtà ripiegata non è possibile l'amore per antonomasia è comunicativo se l'amore non si comunica non è amore l'amore ha bisogno di comunicarsi in che modo ma innanzitutto beh innanzitutto in tanti in tanti modi potremmo dire tutti i modi l'amore l'amore si comunica verbalmente l'amore si comunica fisicamente l'amore si comunica col sangue dando il proprio sangue l'amore l'amore si comunica col sacrificio vedete quante cose si possono scrivere in questo tema l'amore si comunica in molti modi da questo tema vengono fuori altri cento temi l'amore si comunica nel sacrificio come cosa vuol dire l'amore si comunica verbalmente l'amore si comunica con uno sguardo l'amore si comunica col silenzio mamma il mondo qui scriviamo il mondo l'amore si comunica nel silenzio l'amore comunicativo ora voi capite che noi abbiamo intorno alcuni bozzi no stile ma neanche gli orangotangi sono così no ecco appunto stile un po' scimmia che cioè al di fuori di alcuni monosillabi più mono che sillabi non sono capaci di narrare il mondo sentimentale il mondo d'amore che si portano dentro primo perché forse non lo portano non sa neanche cosa stiamo parlando secondo perché non lo sanno dire ci sono persone che non sanno dire ti amo non sono capaci sono persone che non sanno dire guardandoti negli occhi il bene che ti vogliono non lo sanno nominare e quindi non lo sanno comunicare allora vengono fuori questi bozzi appunto che ti dicono no ma io questi padri che era meglio se andavano a a pascolare le pecore ma anche lì ci vuole un po' d'amore perché se no non ti ascoltano vabbè comunque questi padri che dicono no mio figlio non gli dico che gli voglio bene io glielo dimostro come è portando a casa lo stipendio a fine mese dandogli la pagnotta da mangiare mettendogli una sede sotto il tavolo dandogli una casa dove dormire vestendolo no scusa ma cioè no allora vuol dire che il cucciolo di foca riceve più amore da sua madre foca di te che sei suo padre no perché noi vediamo delle scene no il bambi riceve più amore da sua madre cervo che non da te perché se tu vedi i bambi ti si spacca il cuore no se tu vedi il cucciolo di foca nell'antartide con la mamma foca ti si rompe il cuore vedendo come questa lo difende dagli orsi piuttosto che dalle orche no ecco ci sono padri e madri che tu non capisci che è il padre che è la madre di sto bambino perché sembra lo zingaro che gira per la strada e non si sa di chi è a chi appartenga no di chi sia ma non di chi sia solo fisicamente ma di chi sia anteriormente c'è qualcuno che mi giro per la strada che non sa chi è no mi ha sempre colpito la frase di quello che dice mi cerco ma non mi trovo e infatti si vede sì esatto si vede che ti cerchi e non ti trovi quando io vedo qualcuno un po' con gli occhi sparati per aria no gli dico sempre ma ti stai cercando sei lì eh vedi che sei lì eh sì no eh certo l'amore è comunicativo se noi non lo comunichiamo in tutti i modi possibili noi non amiamo l'amore vissuto all'interno non è amore perché non tradisce l'identità stessa dell'amore non c'è amore più grande di questo della vita per i propri amici capite questo è l'atto supremo della comunicazione e è importante perché ci sono quelli che ti comunicano l'amore dando una sberla sì magari alle volte anche però non solo cioè non può essere solo questo quindi capite quanto è importante per un marito no per esempio tornare a casa qualche volta da sua moglie portandole un fiore ma quando glielo dice questo dice oh perché perché oh non è mica l'anniversario di matrimonio non è mica Natale no ma perché l'amore ha bisogno di un'occasione per manifestarsi l'amore ha bisogno di un'occasione per dirsi l'amore si dice sempre non c'è bisogno di un'occasione il Natale la Pasqua l'anniversario di matrimonio che tra l'altro poi se lo dimenticano anche ha bisogno di un'occasione per dirsi c'è proprio bisogno guardate ci sono rimasto tanto male quando un giorno festa del 25 aprile no festa della liberazione chiamo un sacerdote io pensavo di fare una cosa capite una cosa carinissima no e quindi chiamo vedete non bisogna mai dare per scontato nulla no quindi io chiamo e dico eh auguri mi risponde dice pronto dico ciao ciao auguri 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 voglio farti gli auguri per domani per domani era il 24 aprile no perché dicevo così arrivo prima di tutti gli faccio gli auguri prima di tutti no auguri 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 per domani tanti auguri momento di silenzio e poi mi dice ah sì grazie auguri per la liberazione grazie grazie sì anche a te dico no veramente auguri perché domani è l'anniversario del tuo sacerdozio non è l'anniversario della liberazione non ti faccio gli auguri per questo ma perché tu domani ricordi l'essere indato prete ah sì è vero sì squave che fortuna che me l'hai detto grazie che me l'hai ricordato cioè capito ho messo giù il telefono col cuore distrutto proprio spaccato perché ho detto non è possibile cioè questo accade col sacerdozio questo accade con l'anniversario di matrimonio terribile terribile questa cosa uccide un matrimonio più che un tradimento cioè non ti ricordi l'anniversario di matrimonio ma ti devi ricordare 20 giorni prima dell'anniversario di matrimonio 20 giorni prima ti devi ricordare della tua ordinazione ogni mese bisogna far memoria della propria ordinazione ogni mese bisogna far memoria della propria data di anniversario di matrimonio ogni mese ogni mese di ogni anno quel giorno è un giorno diverso ai coniugi ad esempio consiglio sempre il giorno dell'anniversario del matrimonio non l'anno è il giorno pensiamo siamo sposati il 16 di giugno ecco il 16 di ogni mese io dico loro riunitevi insieme rinnovate le promesse matrimoniali oppure un'altra volta accendete insieme due candele o tre candele se avete dei bambini in chiesa davanti al signore oppure fate una memoria particolare riguardando il vostro libretto dell'anniversario di matrimonio il giorno del matrimonio oppure vi togliete la fede fate una novena nove giorni prima togliendovi la fede tenendola lì sul comodino per nove giorni magari sotto i piedi di Gesù affidandola a Gesù togliete la fede per nove giorni fate questa novena di preghiera di ringraziamento di ripromessa del vostro matrimonio poi il nono giorno ve la rimettete uno al dito dell'altro facendo memoria del giorno del matrimonio e così per un sacerdote così per una suora il giorno della sua professione solenne e via di seguito l'amore è comunicativo se non è comunicativo non è amore no ma io non sto mica lì a regalare il fiore a mia moglie ma figura ma mi conosce ma sa come sono sì sei un bozzo sei un bozzo e a nessuno piace avere accanto un bozzo se no andavo lo zomi prendevano rango tango non sceglievo un marito che alle volte sono più affettuosi loro di rango tango intendo donandomi all'anima tua voglio comunicarti qualcosa di me ecco vedete quando noi amiamo comunichiamo qualcosa di noi quando noi facciamo la comunione vedete l'eucaristia come ci insegna a essere civili innanzitutto civili a essere umani esseri umani l'eucaristia ci insegna a essere umani importantissimo perché abbiamo perso perché abbiamo perso questa cosa qui voglio comunicarti qualcosa di me donandomi all'anima tua noi cosa comunichiamo all'altro quando ci doniamo a me sembra che molte volte noi rapiamo qualcosa dell'altro più che donare qualcosa di noi noi portiamo via qualcosa all'altro più che donare noi all'altro cosa doniamo di noi all'altro noi alla sera potremmo dire ma io oggi cosa ho donato di me all'altro che cosa gli ho dato gli ho dato il mio tempo gli ho dato la mia freschezza gli ho dato le mie energie gli ho dato i miei piaceri avrei voluto fare questo invece ho fatto quell'altro cos'è che gli ho dato all'altro gli ho dato la mia noia gli ho dato i miei sbuffamenti gli ho dato la mia pigrizia gli ho dato il mio non c'ho voglio gli ho dato il mio no fallo tu gli ho dato i miei ritardi cos'è che ho dato io all'altro Gesù vuole comunicarci qualcosa di lui e noi cosa comunichiamo Gesù cos'è che diamo Gesù cos'è che noi comunichiamo a Gesù di noi conviene perciò attendere col massimo silenzio amoroso il mio intimo lavorio nel tuo cuore dove imparare a stare zitti per permettere al Signore di lavorare dentro di noi esattamente come sa l'operatorio se sei ben disposta ti faccio sentire le mie celestiali carezze d'amore quando è stata l'ultima volta che mi ha fatto una carezza qualcuno e quando è stata l'ultima volta che qualcuno ci ha fatto una carezza noi ne sapevamo neanche più cosa vuol dire fare le carezze non ci abbiamo più tempo non abbiamo più tempo siamo così alle volte ridotti a una sorta di bestialità che abbiamo perso le cose importanti della vita le carezze questo gesto così così bello così intenso così tenero che ti si iscrive nella memoria e ti rimane dentro così facile da fare così pulito così se uno va dietro con la memoria cosa ricorda ma ricorda quando era piccolo quante carezze ha ricevuto quanti baci quante coccole quanti abbracci quanti dondolamenti in braccio la mamma il papà no? e purtroppo ci sono persone che queste cose non le hanno avute sono sofferenze terribili se sei un papà se sei una mamma ricordati che tuo figlio non si ricorderà di quanta pasta asciutta tu gli hai messo nel piatto capite? non si ricorderà di quanti ossibuchi gli hai dato non si ricorderà di quanta cocacola gli hai comprato ma si ricorderà di quanto l'hai amato capite? e questo se lo ricorderà si ricorderà delle tue carezze si ricorderà dei tuoi din don no? ricordate quando ci mettevano in braccio magari sulla sede a dondolo no? che facevano questo movimento del din don della sede a dondolo e tu intanto ti addormentavi no? col movimento della sede a dondolo in braccio in braccio qualcuno che ti amava perché si può dormire nel letto ma in braccio si dorme meglio in braccio si dorme meglio perché in braccio si dorme cuore a cuore si dorme addormentandosi sulle note del cuore dell'altro eh certo tutti i bambini si calmano e si addormentano in braccio a se c'è qualcuno che li ama se no andate a vedere i filmati degli orfanotrofi di Ceausescu così capite cosa vuol dire che non basta dare da mangiare e vestire è un letto neanche le bestie fanno così neanche le bestie neanche le bestie andate a vedere un cane un gatto cosa fa per i suoi cuccioli neanche le bestie si comportano così le mie carezze d'amore che si avvertono con l'intima gioia e la profonda pace ecco queste sono le carezze d'amore di Gesù ti dà pace ti dà gioia ti dà serenità e poi lascia nel nostro cuore le orme delle mia vestigia divine bella questa espressione eh sì è come se noi vediamo ve lo voglio rendere con un'immagine è come se noi vedete vedete Gesù accarezza senza deformare le sue impronte sono invisibili è come un campo di grano che uno sfiora con una mano no accarezza le punte accarezza le spighe di questo campo ma non rovina gli steli perché se voi entrate con i piedi piegate tutte le piante le uccidete Gesù ha il potere di accarezzare le punte delle spighe che sono fragilissime lui accarezza le punte delle spighe senza rovinare gli steli delle piante di grano bellissimo queste sono le vestigie divine lui lascia in noi questo stile questo bellissimo modo di amare ebbene che dopo ogni comunione ebbene che dopo ogni comunione prima di uscire dal tempio tu prenda qualche proponimento ad esempio evitare lungo il giorno una data mancanza ovvero compiere un particolare atto di virtù ecco questo vuol dire questo vuol dire che quando noi stiamo per uscire dalla dalla chiesa dopo la santa messa prima di uscire dobbiamo prendere un proponimento no dobbiamo dire ok allora senti caro Giorgio adesso te ne stai per andare cos'è che doniamo Gesù doniamogli un proposito doniamogli un atto chi ci impegni lungo la giornata oggi mi impegno a non parlare male di nessuno oggi mi impegno a far memoria di Gesù ogni 15 minuti oggi mi impegno a dire tante volte Gesù ti amo oggi mi impegno a non lo so a non dire le bugie bello bello no questo sì questo potremmo dire questo ritornare costantemente sì questo ritornare costantemente al Signore facendo in modo di di essere di essere totalmente presi totalmente rapiti da Lui attraverso atti concreti oggi faccio il proposito di andare a trovare Gesù alle tre in chiesa oggi faccio il proposito di dire tutto il rosario oggi faccio il proposito di tenermi lontano delle cose impure e via di seguito un qualcosa che lungo la giornata mi chieda di scegliere qualcosa in nome di andiamo avanti finché tu non sia uscita dalla chiesa osserva bene il silenzio e non rivolge la parola ad alcuno senza una vera necessità se occorre una parola non dirne due se basta un segno non dire una parola in chiesa si sta zitti qui Gesù anche è tanto buono non involgere la parola ad alcuno senza una vera necessità sentite stiamo in chiesa tanto poco ma che necessità abbiamo ma stiamo zitti mica stiamo morendo stiamo zitti quando usciamo diciamo tutto quello che dobbiamo dire ma stiamo zitti in chiesa si sta zitti Padre Pio diceva in chiesa non si parla delle cose neanche delle cose del Signore in chiesa non si parla di Dio in chiesa si parla con Dio e basta poi si sta zitti sguardo basso e via ci saluta dopo tanto lo sappiamo facciamo la convenienza la convenienza è noi ci facciamo la convenienza che ogni giorno ci siamo già salutati basta uno sguardo tu passi se amiamo il Signore e sappiamo di amare il Signore noi ci possiamo dare uno sguardo un bello sguardo un bello amoroso un'occhiata amorosa basta sufficiente poi quando usciamo mamma mia parleremo tutto il giorno ma in chiesa in silenzio ma noi abbiamo fretta dobbiamo dire chissà chissà quelle cose importanti il demonio ci tenta su queste cose no questa cosa devi dirla subito no corri corri presto perché poi è ma no stiamo in silenzio stiamo in silenzio quando i fedeli proseguono e si avviano l'uscita della chiesa dimenticando di essere ancora nel luogo sacro mi disgustano con il loro contegno perché molti adesso lo dice chi saluta chi scambia qualche idea chi fa dei commenti chi chiacchiera chi scambia baci abbracci è un vero cicaleccio l'uscita della chiesa voi piccole ostie non accomunatevi alla massa date buon esempio se potete richiamate con delicatezza i giarlatori capite si sta zitti finché non si è fuori ma io dico sempre anche quando siete usciti state zitti state zitti conservate il silenzio lasciate passare almeno un'oretta state in silenzio uscite fate le vostre cose andate in macchina continuate la preghiera dite il rosario andate a casa in silenzio quando è passata un'oretta poi allora aprite le finestre cominciate a fare tutte le vostre cose ma fino lì stiamo in silenzio scappiamo via dalla chiesa non stiamo lì a fare ciao allora come va eh sì ma ci siamo visti ieri cosa è successo in 24 ore dai su non facciamo i ridicoli oh mamma mia sembra che poi durante il giorno non ci abbiamo il telefono ma sì ma abbiamo tanti modi per sentirci quello è il tempo del signore noi usciamo in silenzio le piccole ostie escono in silenzio escono in silenzio se ne vanno via non si mettono lì a chiacchierare volete chiacchierare ma invitatevi a pranzo eh no questo invece non lo facciamo capite perché questo è impegnativo ecco perché siamo a case chiuse e non va bene invitiamoci a pranzo certo non in questo momento ma nella normalità invitiamoci a pranzo vogliamo chiacchierare bene il giorno prima diciamo senti domani vuoi venire a pranzo ok dopo la messa ognuno va a casa sua poi verso le 11 così viene lì e parliamo stiamo lì insieme ci mangiamo la colomba il panettone la torta fatta in casa la crostata alla ciliegia buonissima e poi ci mangiamo non lo so le costine ai ferri e tutte le cose buone ci mettiamo fuori le facciamo insieme sì sì bellissimo dopo dopo non trasformiamo la santa messa nella sagra della salamella eh per favore dalla comunione alla fine della messa prosegue il testo passano pochi minuti vero è doveroso segue Gesù che chiunque si sia comunicato non esca subito dalla chiesa perché tanta premura di uscire dal tempio se non c'è una vera ragione urgente perché profanare la mia vicina presenza reale se si avesse più fede quanti dispiacere mi si potrebbero evitare verissimo io dico sempre finita la messa sembra che si è scoppiato l'incendio oppure finita la messa sembra che sono arrivati i ladri a ladro a ladro tutti fuori alle volte io non riesco ad arrivare dall'altare alla sacristia mi sembra di essere Mosè io ogni ogni domenica mi sento Mosè perché deve passare nelle acque del Mar Rosso e io devo dire il permesso scusate permesso posso arrivare in sacristia non è che mi posso spogliare qui infatti almeno arrivare a sacristia che non è che devo fare 12 km sono 10 passi dall'altare alla sacristia posso entrare in sacristia perché tutti devono uscire ti guardano con questo sorriso un po' da ebete buongiorno buongiorno ma che buongiorno ma che buongiorno ma quello non è il tempo del buongiorno quello è il tempo che tu dovresti essere in chiesa a fare ringraziamento per aver fatto la comunione magari sei venuto per ultimo a fare la comunione perché poi sono quelli che sono gli umili i più umili sono un povero peccatore tutte queste stupidaggini e allora vado per ultimo a fare la comunione certo però poi quando andiamo in farmacia sei per primo però poi quando andai a fare la spesa valrai un'ora prima per essere il primo a entrare a fare la spesa vero? però poi quando andai alla saga di gorgonzola tu sei il primo ad andare lì e prenderti la fettina di gorgonzola da mangiare con la polenta bella bollente vero? ma la comunione la vado a fare per ultima perché io sono un povero peccatore da noi a Milano si dice no ti sei un gandula mica sei un povero peccatore altro che un povero peccatore sei un gandula dovresti essere il primo ad andare a fare la comunione perché sei lì che talmente tanto ardi dal desiderio di ricevere il Signore talmente tanto sei divorato dal bisogno dalla fame che sei per primo voglio vedere se stai morendo di sete se tu dici no io vengo per ultimo sì sì vediamo vediamo quando passa la colomba farcita al cioccolato con sulla glassa tu dici no 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 io prendo le briciole voi prendete tutto voi per primi poi quello che avanza lo prendo io sì certo come no mai visto nessuno io fare questo ma col Signore lo facciamo col Signore lo facciamo perché noi col Signore facciamo questo e altro nel giorno ci sono 24 ore possegui Gesù ci sono 24 ore però l'ora più preziosa è da santificare in modo speciale quella che segue la comunione l'ora è l'ora non i minuti l'ora durante quest'ora dice Gesù ecco perché vi ho detto che non è per tutti questo testo solo per le piccole osteriparatrici se uno questa cosa qui non la vuole vivere auguri vada a fare altro ma chi vuole essere una piccola osteriparatrice deve vivere così durante quest'ora uno si conserva un discreto relativo raccoglimento pur attendendo i propri doveri vai pure al lavoro però in silenzio due si recitano ad intervalli devote giaculatorie sollevando spesso la mente il cuore a me e anche preghiera il canto di lode sacre per esempio si può dire l'ufficio si può dire non so se la conoscete se già lo fate si può dire l'ora media si può dire poi il vespero se uno va messa alla sera si può dire il rosario si può dire ci sono tante preghiere che noi possiamo recitare io adesso ne stavo pensando qualche d'una in particolare però si noi possiamo quando usciamo di chiesa possiamo anche per esempio ascoltare una meditazione una particolare riflessione teologica molto bella che abbiamo trovato su internet possiamo insomma ognuno di noi ha la possibilità di inventarsi e di trovare un qualcosa una qualche forma e questa qualche forma la dobbiamo portare avanti ci sono per esempio mi ricordo le le famose 33 litanie adesso magari poi per la prossima volta le guardo meglio ma su internet le trovate poi se le trovo se le troviamo i ragazzi poi le metteranno nel faranno un approfondimento le metteranno sotto la meditazione di oggi così le trovate anche voi facilmente che sono queste litanie brevissime no vieni signore gesù gesù ti amo delle espressioni brevissime che si lanciano al signore che si possono ripetere durante tutta la giornata uno ne può scegliere una una di queste 33 litanie molto belle e e le ripete ne sceglie una e la ripete lungo la giornata diventa un po' la sua la sua preghiera quindi due queste devote giaculatorie tre si evitano le piccole mancanze volontarie tutto ciò che sappiamo essere una mancanza la volontà la tiriamo via e non la facciamo diciamo no non mi interessa non la voglio fare poi si è santificato anche il resto della giornata in modo che chiunque vicini chi ha ricevuto me nella comunione si accorga che questi si distingue dalle altre persone per la prova che ne dà con la pazienza la dolcezza e la carità quindi il resto della giornata deve essere santificata da questi bei sentimenti non ci riusciamo cadiamo ci rialziamo ricominciamo capite è importante non rendersi mai quindi tre cose da fare durante quest'ora raccoglimento silenzio fare i propri doveri le devote giaculatorie o le preghiere le lodi sacre e poi le piccole mancanze da evitare piccolo ostri rifletti ancora quando ti presenti alla mensa eucaristica il sacerdote depone me sulla tua lingua e quindi la lingua che ha il primo contatto diretto con me quando mi ricevi pensa questa mia lingua è veramente degna di toccare Gesù è così pure immacolata e santa da mettersi a contatto con il corpo di Gesù ho nulla da rimproverarmi nel parlare nei momenti di contrasti di eccitazione o di offese come tengo a freno la lingua fa di tutto per presentarmi alla comunione la lingua mondo da ogni colpa ecco una bella lingua innocente innocente vuol dire che non fa male a nessuno una lingua pulita che non dice sconcerie che non dice barzellette sporche che non fa discorsi ambigui che non fa discorsi maliziosi una lingua che non dice parolacce ovviamente ma neanche io non lo dico perché lo dopo è scontato una lingua che non bestemmia ovviamente se no è impossibile andare a fare la comunione una lingua che non dice parolacce una piccola ostia non dice parolacce assolutamente non dice volgarità non dice parolacce mi fanno ridere quelli che dicono ma perché dire parolacce è un peccato la Madonna le direbbe Gesù le direbbe l'angelo custode le direbbe San Luigi Gonzaga diceva le parolacce ecco da questo puoi capire benissimo se è un peccato oppure no tutto ciò che Gesù e la Madonna non farebbero mai è un peccato quindi fai tu i tuoi conti sono scandalosi certi modi di parlare delle persone che poi magari vanno in chiesa a fare la comunione terribile terribile qualcuno mi dice padre ma come si fa ad avere la sigaretta castigata vi ricordate che abbiamo parlato del vino castigato ma io fumo padre come faccio ad avere la sigaretta castigata ma semplice buttando tutto il pacchetto in una pattumiera questa è la sigaretta castigata cioè ma vi pare ma vi pare che uno che ama il Signore si mette lì a fumarsi le sigarette ma che brutto che brutta cosa che brutta cosa che brutto che brutto esempio chiediamo è un vizio fumare è un vizio se Giovanni della Croce dice che mi tenga legato a terra una catena o un filo non cambia niente ciò che l'uccellino ciò che lo tiene legato a terra è quel filo quella catena e finché non lo tagli ti tiene legato quello è un vizio certo non è come uccidere ovvio non è come chissà quale altro vizio ma è un vizio se è quel vizio lì puoi anche togli tutti gli altri ma quello ti tiene legato a terra no 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 via 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 una piccola ostia no eh assolutamente una piccola ostia vive di essenzialità non vive di spreco la sigaretta è uno spreco vuol dire buttare via i soldi è un atto contro la povertà non va bene non va bene quindi via e come si fa a smettere di fumare? smettere di fumare è facilissimo sapete come si fa? si prende il pacchetto delle sigarette con il suo accendino e lo si mette ai piedi della croce o della madonna o del sacro cuore voglio vedere che ha coraggio di andare a riprenderlo in mano glielo si offre gli si dice Gesù questi sono tuoi adesso tu sicuramente mi darai la forza per essere libero il signore la dà la forza si si ho visto delle cose bellissime lasciatele lì ma dopo li devo buttare via no lasciatele lì ai piedi della vostra croce della vostra madonna del vostro sacro cuore lì fermi immobile a perpetua memoria dell'offerta che avete fatto ma allora non ne potrò fumare neanche più una con il mio amico no perché l'offerta è per sempre quindi dopo dovrei fare memoria ogni mese fare a memoria di quel giorno che hai fatto l'offerta in cui avrei offerto dopo la comunione questa tua promessa di non fumare più io ho visto persone scarcerati fare gesti bellissimi da questo punto di vista bellissimi bellissimi qualcuno che mi diceva eh guarda Giorgio ma io non ce l'ho il crocifisso in camera io non ce l'ho la madonna eh sì in camera scusate in cella io non ce l'ho come faccio dai prendile tu allora capito uscivo dal carcere pieno di sigarette sembrava un contrabbandiere no ero pieno di sigarette di accendini pacchetti di sigarette di tutte le marche di tutti i tipi sembrava che io fumassi come un turco perché ovviamente poi raccoglievo e si raccoglie la generosità della gente anche dei carcerati si raccoglie volentieri eh quindi mi riempivo il mio berbo il sero di sigarette arrivavo in convento e mi tiravo fuori tutti questi pacchi di sigarette e le collezionavo le mettevo lì ai piedi della madonna certo dicevo vedi Vergine Maria questi sono tutti questi tuoi figli che hanno deciso di consacrarsi a te perché gli facevo fare l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria che hanno deciso di consacrarsi a te ogni giorno una posta di sigaretta faranno l'atto di consacrazione questo è il loro atto di amore io lo metto con i tuoi piedi perché sono sicuro che non fumeranno più e non fumavano più eh neanche una volta dopo un po' di tempo allora io dicevo loro sentite l'accendino però a me serve siccome non voglio rubarvelo posso tenerlo e usarlo per accendere le candele in chiesa sì dai che bello sì sì così lo userai per questa cosa eh così lo usavo usavo il loro accendino per accendermi le candele in chiesa ma alcuni mi hanno dato gli accendini bellissimi bellissimi eh proprio belli 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 sodi belli quelli non li so chiamare non so come si chiamano comunque è un quei belli accendini che un po' colore argento che si aprivano in un certo modo ma proprio belli ognuno c'aveva sui qualcuni c'avevano sui anche le iniziali delle opere no le opere d'arte bellissime basta tolti per sempre e sostituiti dall'amore per la Virgine Maria ecco con questo bel esempio dei carcerati anche noi vogliamo imparare da loro e quindi io vi auguro una santa domenica nel Signore mi auguro quando torneremo all'eucaristia diventeremo tutti piccole ostie ecco io spero che tutti voi che ascoltate queste meditazioni maturiate l'idea di diventare piccole ostie che uno dice sì però c'è il gruppo delle piccole ostie c'è la capogruppo c'è le associazioni sì sì è tutto vero ed è bellissimo e chi vuole appartenere va benissimo ma anche è vero che uno può essere nel suo cuore no è anche vero che uno può dire no ma io non me la sento perché poi ho il marito che mi sgrida e la moglie che non lo sopporta perché poi dopo non lo so che roba uno può essere piccole ostie anche nel suo cuore semplicemente nella sua singolarità no può essere un ostie offerta al signore nel segreto in pectore no nel segreto per tante ragioni perché magari non può manifestare questa cosa o non se la sente o non lo so che roba l'importante è esserlo la forma è importante ma alle volte è importante anche vivere nella catacomba questa appartenenza al signore ecco allora maturiamo questa appartenenza questo voler essere piccole ostie questo volerci consacrare a Dio come piccole ostie con tutti gli impegni che stiamo leggendo in questi giorni e la benedizione di Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amen sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato